Salve a tutti, io sono Silva Costarelli, sono un medico veterinario, lavoro all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Ungria delle Marche a Perugia e lavoro nel laboratorio di sierologia, cioè il laboratorio che permette di fare diagnosi indiretta di una serie di malattie degli animali, andando a svelare la presenza degli anticorpi nel loro sangue. Tra queste malattie una molto interessante e anche molto seria è la leptospirosi, che è una malattia che può colpire gli animali e anche l'uomo. In particolare oggi però vi voglio raccontare una storia, anzi due storie, legate a una diagnosi che abbiamo aiutato a fare agli ospedali del territorio, proprio di leptospirosi nell'uomo. Sono due episodi che si sono verificati in due tempi diversi, anzi direi in due estati diverse, perché la leptospirosi normalmente si diagnostica e si evidenzia nei periodi estivi o autunnali, tardo estate-autunno. Il primo episodio riguarda un ragazzo di 27-28 anni che si è presentato all'ospedale di Terni dopo aver avuto per 4-5 giorni febbre, dolori muscolari, dolori articolari, che aveva cercato di risolvere con una terapia a base di tachipidina. Inizialmente sembrava che la terapia funzionasse, poi invece la febbre è aumentata e è comparso l'ittero, quindi questa colorazione giallastra della cute e soprattutto della sclera dell'occhio. Quindi è andato al pronto soccorso e al pronto soccorso hanno immediatamente sospettato che poteva trattarsi di leptospirosi, perché il ragazzo ha raccontato la sua storia nelle settimane precedenti. Ha raccontato che almeno 15-20 giorni prima era stato in campagna e aveva collaborato, aiutato un suo amico a pulire dei locali di un casale ovviamente vestito in modo molto estivo, quindi con ciabattine, con pantaloncini corti, canottiera, ma pulendo questi locali, queste stanze, avevano notato numerosi escrementi di topo. E quindi è questo che ha indirizzato i colleghi medici dell'ospedale a sospettare, a mettere un sospetto diagnostico per leptospirosi. In effetti, quando ci hanno mandato il siero, il test sierologico che effettuiamo regolarmente per la diagnosi di leptospirosi negli animali, ma anche nell'uomo, la MAT, il cosiddetto test di microaglutinazione, ha dato esito positivo per questo ragazzo, anche con dei titoli anticorpali molto elevati. Cosa vuol dire? Vuol dire che la concentrazione di anticorpi era molto alta. Significa che probabilmente erano passati diversi giorni, almeno più di 10-12 giorni, dall'inizio dell'infezione, quindi questo ragazzo aveva appunto cominciato a produrre anticorpi. Parlando poi con il medico che aveva emesso il sospetto diagnostico, abbiamo avuto una ulteriore informazione. L'informazione era questa, che questo ragazzo faceva, usava, amava fare spesso i bagni nel fiume. Il fiume è un elemento di rischio, il bagno in un fiume, soprattutto in un periodo estivo in cui le acque si fermano e in cui se in quel fiume ci sono nutrie o ratti o topi che liberano ed eliminano le leptospire con le loro urine nelle acque del fiume, le acque ferme, temperatura ideale, condizione ideale per la leptospira di resistere in quell'ambiente. E quindi questo è stato un ulteriore elemento, diciamo, di rischio che ha, un ulteriore comportamento di rischio di questo giovane, che non solo aveva appunto collaborato, contribuito a pulire questi locali, ma aveva anche fatto il bagno in un fiume, in un momento in cui forse le condizioni non erano le migliori. Il ragazzo è stato, dopo la diagnosi di certezza, è stato sottoposto ad adeguata terapia antibiotica che nel giro di pochi giorni ha comportato la remissione dei sintomi, la sua guarigione e quindi è stato dimesso dall'ospedale. Parliamo quindi della seconda storia. La seconda storia riguarda anche in questo caso un campione di siero che è arrivato presso i nostri laboratori dall'ospedale di Perugia come siero umano di un soggetto con sospetta leptospirosi. Abbiamo eseguito anche in questo caso il test MAT, cioè il test sierologico e in effetti l'esito è stato positivo. Quel siero risultato positivo ha la leptospira ballum con titoli molto alti, quindi con una concentrazione anticorpale anche in questo caso molto elevata. Quindi ho contattato immediatamente il medico dell'ospedale di Perugia che aveva inviato il campione e il medico mi ha detto che la diagnosi, il sospetto diagnostico risaliva da parte loro a circa 15-20 giorni prima, avevano mandato un primo campione di siero presso i nostri laboratori che era risultato negativo e quindi a distanza di 15-20 giorni avevano effettuato questo secondo invio. Proprio perché fortemente convinti che si trattasse di una leptospirosi ma avevano anche intuito di aver fatto il primo invio troppo presto, cioè durante la fase acuta dell'infezione, quando ancora il soggetto non aveva sviluppato anticorpi. Quindi con questo secondo siero, con questo secondo campione, hanno potuto effettivamente avere la conferma dei loro sospetti diagnostici. Questo è importante perché la sierologia serve proprio a questo, cioè molto spesso serve a confermare un sospetto che non si è potuto diagnosticare immediatamente, ma a distanza di alcuni giorni si può fare una diagnosi indiretta verificando appunto lo sviluppo degli anticorpi. In questo caso il medico mi ha raccontato di aver saputo dall'anamnesi del paziente che aveva frequentato le acque di un fiume da canoista, cioè era un ragazzo appassionato di canoa e probabilmente, anche se di questo non ne avremo mai la certezza, però era stato l'unico comportamento a rischio che avrebbe potuto appunto determinare l'infezione della leptospira in questo soggetto. Anche in questo caso il ragazzo è stato sottoposto ad adeguata terapia antibiotica ed è guarito in breve tempo. L'ultimo caso di cui vi voglio parlare riguarda sempre un uomo ricoverato presso l'ospedale di Pesaro, anche lui con sospetto leptospirosi. Dall'ospedale quindi hanno inviato presso i nostri laboratori un campione delle urine di questa persona, di quest'uomo, un campione di sangue e un campione di siero. Le urine e il sangue sono stati sottoposti ad esame PCR, cioè alla ricerca diretta della leptospira, dalle urine e dal sangue. E la PCR ha dato esito positivo. Il siero invece ha dato un esito negativo. Emessa comunque la diagnosi, a distanza di 15 giorni, dallo stesso ospedale, ci hanno fatto pervenire il secondo campione di siero dello stesso soggetto e questa volta è risultato positivo ad un titolo di 1 a 800, quindi anche in questo caso un titolo molto elevato, per leptospira ictremorragie. Questa storia ci dà due insegnamenti. Il primo è che l'esame sierologico si conferma come un esame importante per fare una diagnosi, non nella fase acuta dell'infezione, in cui invece è più performante sicuramente la PCR, perché le leptospire sono ancora in circolo nel sangue o nelle urine, e invece il sierologico è utile proprio nella fase cronica, quando sono passati ormai 10-12 giorni e quindi il soggetto ha cominciato a produrre anticorpi. Il secondo insegnamento è che la sierologia ci ha permesso anche di dare un nome e un cognome a questa leptospira, cioè abbiamo potuto capire che l'infezione era sostenuta da una leptospira, interrogans ictremorragie, mentre con la PCR ci eravamo fermati a leptospira. E' importante sapere quali sono le serovar che vengono coinvolte nelle infezioni da leptospirosi sia negli uomini che negli animali, perché abbiamo una cognizione a quel punto epidemiologica territoriale più precisa che ci permette anche di fare degli interventi di profilassi adeguati alla situazione.